Quale contributo potrebbe derivare dall'attuazione del governo aperto al ridurre il divario di genere? Il governo aperto può sicuramente contribuire a chiudere i grandi divari di genere che ci sono all'interno del paese, perché innanzitutto la conoscenza e la consapevolezza dei dati che sono disponibili disaggregati per genere è molto importante, perché attualmente l'Italia ancora non ha a disposizione tutti i dati che sarebbero necessari a misurare i divari di genere, quindi aprire sempre di più la base informativa e andare a conoscere quali sono disponibili e quali invece no, sicuramente sarebbe molto importante per a livello di cittadinanza attiva essere consapevoli di a che punto il governo è arrivato nella raccolta e nell'utilizzo di questi dati e dall'altro anche poter avere un ruolo attivo per quel che riguarda l'utilizzo di questi dati per la programmazione poi delle politiche pubbliche. Questo è un tema assolutamente fondamentale su cui ancora in Italia gli strumenti e le metodologie non sono ancora sviluppati al massimo, come per esempio la valutazione di impatto di genere. Quindi per poter capire qual è l'impatto di ogni singola azione politica pubblica nel chiudere i divari di genere è fondamentale la disponibilità di dati. Quindi in questo caso un governo aperto che metta a disposizione più informazioni possibili e con determinate caratteristiche che siano di qualità, che siano aperti, quindi che sia potenzialmente riutilizzabile non solo dalle istituzioni ma anche da associazioni, gruppi collettivi, ricercatori, ricercatrice, sicuramente aumenterebbe il grado di attivismo e consapevolezza su tutte le disuguaglianze che sono attive in questo momento e permetterebbe anche alla società civile di fare delle analisi incrociate su diverse caratteristiche che attualmente le istituzioni non fanno. Quindi come per esempio dentro una caratteristica di genere non c'è solo il genere come un monoligli tema, c'è la necessità di andare a capire la classe sociale, l'età, la provenienza, le diverse identità, orientamenti sessuali, abilità, disabilità. Quindi ovviamente una richiesta dal basso forte di avere una maggiore e più ampia base informativa sicuramente migliorerà la possibilità di creare politiche pubbliche più giuste e in questo un governo aperto è un tassello fondamentale di questo percorso che ci porta a costruire appunto politiche più giuste ed equi per tutte le persone.